Una maggioranza spaccata è quanto emerge anche dalla mancata elezione ieri sera del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Como, il successore Diana Veronelli. Veronelli che, dopo aver lasciato Forza Italia, pochi giorni dopo si era dimessa dall'incarico per poi approdare in azione il partito fondato da Carlo Calenda. E proprio quest'ultima non ha risparmiato un'uscita al vetriolo sui social parlando di spettacolo penoso e di una maggioranza che fa mercanzia di un incarico alto e super partes come quello del presidente. Parole mal digerite dal capogruppo e fino a qualche giorno fa collega di partito Enrico Cenetiempo. Anna Veronelli, ha replicato il consigliere ed ex assessore, ha ricoperto l'incarico di presidente perché negli accordi dell'epoca quel ruolo spettava un esponente di Forza Italia. Questo valeva allora e vale ancora oggi. Onestamente non capisco le affermazioni di queste ore, è una persona che fa politica da sempre e ha sempre compreso i meccanismi che regolano i rapporti di una coalizione. È stata una sua iniziativa uscire da Forza Italia, aggiunge Cenetiempo, noi non siamo un partito che trattiene la gente, abbiamo accettato la sua decisione e oggi fatico a comprendere queste dichiarazioni. Sulla maggioranza divisa con due nomi in lizza per il posto di presidente Cenetiempo poi punta il dito contro il sindaco. È stato lui a prendere un'altra strada dopo aver detto nelle scorse settimane che la sua lista non avrebbe corso per le prossime elezioni. Lui si è tirato fuori, ha precisato, da quella maggioranza che lo ha sostenuto in questi anni. Lui ha proposto un altro nome, quello di Elena Maspero, e quindi si deve assumere la responsabilità di quanto accaduto ieri sera. I tre partiti che scendono in campo insieme anche alle prossime amministrative hanno votato compatti. Ieri sera è stato il primo cittadino a mettere in atto questo colpo di scena a un mese e mezzo dalle elezioni, ha sottolineato infine.